Buongiorno a tutti, oggi parliamo delle arachidi, un ingrediente molto antico che negli anni 70 dominava i laghi di pesca dedicati al carfishing in Inghilterra. Poi successe un brutto fatto, ci furono diverse morie di carpe, carpe che erano un bene molto prezioso per i laghetti che li ospitavano perché non ce n'erano molto di grossa taglia e di conseguenza quando ne moriva qualcuna il laghetto stesso perdeva di attrattività. Si scoprì che poteva essere che i pesci morissero attaccati da una tossina che si trova nelle arachidi quando sono mal conservate, la flatotossina, perché all'epoca le arachidi in Inghilterra si trovavano per alimentazione animale e non per alimentazione umana e la loro conservazione era un po' lasciata al caso. Inoltre non erano tostate quindi tendevano a irrancidire e a creare questi disagi. Si scoprì poi negli anni 80 che in realtà le cause potevano essere altre, però di fatto l'esca venne bandita da diversi laghi e quindi cadde in disuso. L'arachide è invece un'esca eccezionale per catturare carpe. Nell'arachide c'è un insieme di proteine e grassi eccezionale che la rende un alimento veramente estremamente nutriente e estremamente appetito dalla carpa che quando entra in pastura sulle arachidi va proprio via di testa come si suol dire. Ai nostri giorni le arachidi anche per alimentazione animale in genere vendute per i grossi pappagalli, per questi uccelli di grossa taglia, sono estremamente sicure, sono trattate a volte con i raggi ultravioletti proprio perché non ci siano tossine, batteri e robe strane, quindi possono essere utilizzate anche per alimentazione umana. Si trovano già sgusciate, quindi private del loro, del tubero, insomma della corteccia che crea la spagnoletta famosa che tutti noi siamo abituati a sbucciare per trovare dentro i semi. Vengono quindi vedute sgusciate crude che sono la forma ideale per essere fatte ammollare nell'acqua per una notte, bollite per circa mezz'ora 40 minuti da quando inizia l'ebollizione e poi lasciate fermentare per 1-2 giorni. Si innescano come il tiger nut, a volte serve proprio il trappanino per perforarle, anche questo è un innesco molto resistente. Il seme di tiger nut si spacca a metà per cui bisogna innescarlo ricompolendolo magari con del bait floss e con modalità simili al tiger nut esistono anche le arachidi finte galleggianti, quindi si possono creare gli omini di neve fra arachide vera, arachide finte e così via. Quindi un'esca spettacolare che poi rientra anche, come abbiamo già visto in una precedente pillola di bait guru, anche nelle boilers come ingrediente natti, come burro di arachide da utilizzare per impastare il mix e creare delle varianti natti estremamente attrattive, ma in questo caso mi volevo proprio soffermare sulle caratteristiche dell'arachide come esca fine se stessa oppure come particle da pastura per rinforzare la preparazione di uno spot su cui poi pescheremo con una bella boiling natti mix, presumibilmente a base di arachide quindi con burro di arachide, un bell'aroma fruttato o scopex e un bell'olio essenziale natme come vi ho già detto di fare quando abbiamo parlato di natti mix. Quindi preparazione dell'arachide, mescoliamo nei primi giorni due terzi di semi di arachide un terzo boilers per la preparazione dello spot, riducendo un po' alla volta la presenza delle sementi per arrivare in prossimità delle pescate e durante la pescata a pasturare prevalentemente con boilie o boilie sbriciolate e qualche piccolo semi di contorno. Questo perché in semi di arachide sazia molto più della boilie e quindi il rischio di pasturare pesantemente con i semi in prossimità della pescata è di avere le carpe estremamente attratte da quel gusto e da quel tipo di stimolo alimentare ma sazie quindi poco attive poco propense a farsi catturare e quindi è bene bilanciare diciamo la miscela fra sementi e boilie man mano che ci avviciniamo ai giorni caldi della nostra pescata. Sono devastanti fine primavera estate e autunno campo che è lo stesso campo di utilizzo prevalente specialistico dei natti mix. Questo perché contengono una buona porzione di grassi e quindi in momenti in cui l'acqua scende sotto i 15 gradi si possono usare ma con estrema cautela in termini di quantità perché ribadisco altrimenti c'è il rischio di saziare il pesce e quindi inibire o ostacolare la nostra azione di pesca. Io personalmente come vi ho già detto nel video dove parlavo dei natti mix ho catturato dei super target fish con acqua a 5 gradi e innesco natti ma ovviamente oltre all'innesco in acqua non c'era altro che un po' di sbriciolato.